ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video primo video ufficiale delle vocazioni su poteri waves che è arrivato quattro giorni fa non ho pulato niente né io né un sacco di ragazzi lasciati infatti poi ci saranno probabilmente uno due video di full loro questo è per le mie e faccio l'in prendiamo personaggio garantito nel banner beginner tiriamo tutto quello che ho per questo e poi vabbè ci hanno dato anche un ticket perché sono pieni di bug però il loro modo per scusarsi è vi regaliamo 5 serie da permanente quindi ci prendiamo anche il ticket e mi vanno bene tutti forse per gusto di gameplay personale verina è la più utile quindi però comunque in un modo nell'altro me la porto a casa calzerò bellissimo ancora mi piace tantissimo i gian cim pure lì neanche quella mi piaceva meno ma ho provato il gameplay mi piace tantissimo quindi mi va bene tutto mi va bene tutto non ho niente quattro stelle un giusto con dubbio di armi e personaggi sarebbe la cosa migliore mi piacerebbe trovare taoshi perché è molto bella e perché appunto sarà in retap fra 20 giorni e non so quante pull avrò fra 20 giorni speriamo tante comunque vi auguro buona visione e niente ci vediamo a questo nei prossimi video qua ne tiriamo le solite 40 cosa esce esce ve l'ho detto per priorità sarei più contenta se mi uscisse verina per una questione di utility sì ho fatto un po rap god di eminem avete ragione dovrei ogni tanto parlare un po più lenta così monetizzare di più nei video però vabbè e questo discorso a parte comunque dicevo forse verina per utility però mi piace anche ancor tantissimo mi piace calzaro per altri motivi tantissimo però jang shin è molto forte poi mi ricorda casua perché raggruppa li yang mi piace molto il gameplay quindi comunque vada è un successo il vero successo sarebbe questo io ho quattro multi e zero speranze quindi come va va quattro stelle se proprio vogliono farmi un regalo gigante taoshi per il momento non so nemmeno come funziona il suo gameplay però è rosa e voi sapete bene che c'è una cosa che io non ho mai ritrovato in genshin sono personaggi come taoshi o anchor che è totalmente rosa ho bisogno del rosa datemi il rosa quindi questa è la mia la mia richiesta di oggi datemi il rosa bene detto questo preghiamo e possiamo andare prime molti ho fatto soltanto la singola quella scriptatissima doveva essere il banner di jing yang questo però vabbè cosa volete che sia vabbè a sto punto ve lo dico onestamente va bene qualsiasi cristiano debba esserci qui dentro onesta ho fatto tutta la tiridera prima ragazzi a me lo dovete sapere nei banner begin non ho mai trovato i 5 stelle prima l'ho detto prima ho fatto tutto lì d'ascolto su star rail 5 multi su the light su genshin a pt2 cosa sei raga ma che cazzo ma che cazzo a pt2 no vabbè a pt2 non è vero non è vero non è no no ragazzi foso 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 vabbè a pt2 no buoni allora 55 che diventeranno 60 le tireremo tutte ma prima andiamo qua perché se qua si perde il 50 e 50 si ribalta tutto un'altra volta allora divinità della curo games io sono una donna di fede e credo in voi credo molto in voi ho un debole i personaggi 2d con area molto adulta e che sembrano un po cattivelli quindi siamo perfettamente nel settore mio venitemi in conto per favore una copia di dungeon bene possiamo andare una copia di dungeon per favore cari amici miei ah che io ti amo però pt1 non mi è mai successo sì sì mi è successo in vita mia ma non all'inizio gio eravamo destinati io l'avevo sognato l'altra notte onestamente posso stare anche senza dungeon adesso bene quindi ne tiro un'altra tanto il 5 stelle l'ho già trovato ora non me ne esce un'altra state tranquilli ho già dato per oggi gentilmente dungeon grazie quella carina grazie meno male meno male meno male no no ragazzi toshi vabbè basta basta oggi è la giornata più bella della mia vita è la giornata più bella della mia vita nemmeno dungeon lei l'unica che voleva boh io non so nemmeno che faccia però mi sta tendendo la mano io la prendo a posto non dico più niente basta adesso mi sono fatto vabbè cinzia non mi importa va benissimo mette scudi perfetto cinzia va benissimo va benissimo cinzia va benissimo possono darmela anche c4 in questa multi grazie non importa l'altra mia preferita tra l'altro di 4 stelle è san qua che ce la danno domani vediamo 4 stelle accetto anche michael jackson lo accetto accetto anche michael jackson rendiamoci conto no no veramente veramente ragazzi per forza per forza lo accetto lo accetto che non mi è uscito di là top top grazie grazie perché non mi top perfetto bravo bravo lui bravo non mi era uscito di là top quindi adesso andiamo qui prendo ormai anche l'ultimo che era l'obiettivo per cui facevo questa cosa perché una in più scontata fa la differenza poi qua prima prendo paradossalmente queste perché devo tirare le multi per calzaro quindi ragazzi almeno consumo meno gastriti meno gastriti per un futuro migliore ovviamente l'arma c'è solo questa vabbè ma qua non esce nulla come va va però dovevo provare ad alzare il pt dovevo provare l'ho trovato dovevo provare per forza va bene lo accettiamo lo accettiamo lo accettiamo va benissimo qua devo per forza provare se non mi esce rimango a pt30 nel banner delle armi per chi vorrò prenderci l'arma capito queste le devo usare per forza tanto il resto lo rifarmo nei prossimi giorni qua devo provare con quello che ho tre multi nel banner armi bene gli scudi per quella che mette gli scudi perfetto abbiamo altre due multi precise ragazzi come va va però almeno ci portiamo quasi a metà pt per il banner armi almeno un personaggio con l'arma lo avrò di sicuro dai è uscito subito devo per forza devo per forza forza gastriti forza gastriti no raga ho sculato troppo di là qua non mi esce sì sì esatto mi alzo il pt di 30 che non è male è praticamente metà pt qua quindi va bene buono refine dello scudo e ultima multi nel banner delle gastriti armi poi andiamo nel permanent va bene lo accettiamo lo accettiamo ci sta bene lo accettiamo dall'alto vi ricordo che nel banner dei personaggi sono a pt 19 perché mi è uscito nella prima singola e poi ho tirato un'altra multi quindi comunque siamo già a pt 19 nel banner dei personaggi sì grazie 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 sì visto che non ho preso il leoncino visto che non ho preso il leoncino il crio dps il refine per il crio dps grazie bellissima 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 perfetto qui ho dato 96 molto bene chiudiamo chiudiamo con queste qua chiudiamo con queste qua vabbè queste poi le prendo dopo chiudiamo con queste qua che sono 50 quindi mi mancheranno poi 20 pull nel caso per prendere quindi vai calzaro a me calzaro a me e nel frattempo magari costelliamo qualcosa troviamo 4 stelle nuovi dai e se esce prima tanta roba anche se tanti personaggi insieme sono un po' too much avendo già trovato la una spada molto bene tanto uno spadone questo visto che il mio signorino avrà bisogno di qualcosa avendo già preso Verina avendo preso anche Gignanne che non pensavo mi uscisse vabbè prendendo Anchor qua può anche aspettare uscire può aspettare può uscirmi con calma quando arrivo alle pull per prenderlo questo può arrivare tranquillamente all'80 c'è da buildare 87 personaggi sono disperata ok sì sì con calma ok molti delle armi va bene vi giuro raga mi sento tipo stonnatissima c'è se già Verina nella prima multi nel banner sì da Ginn che non ho trovato nel banner di là sì che bello tutte quelle che volevo anche i 4 stelle che volevo quella che volevo dire perché non l'ho trovata di là perché ho tirato una multi non mi sono usciti i 4 stelle non mi sono usciti oggi best day sì poteva uscire l'arma eh se proprio vogliamo essere pignoli un po' presuntuosi poteva quasi uscire l'arma però vabbè lo accettiamo lo accettiamo ok no best pool no best pool si usciva anche l'arma in 3 multi in quel caso c'era stata l'ascurata ma ce ne faremo una ragione poi magari faccio la pazza e quando farmo una multi la tiro eh perché ciao Shinzi AC2 ma mi vai benissimo ho visto talmente tante cose pazzesche oggi multi con doppio 4 stelle sono solo che contenta e lo so se arrivo a prenderla ok ultima multi e tiriamo vediamo se l'ultima multi ma no va bene ci sta meglio perché non volevo tutti sti 5 stelle ora all'inizio che bella tutte le mie bambine tutte le mie bambine facciamo la foto anche a lei anche se è costellazione però ormai oggi ho l'album fotografico delle mie pool di oggi lo chiameremo la giornata perfetta la giornata perfetta bellissima lei è lei è qualcosa di di pazzesco a quel taglio di occhi sembra una lince bellissima e un'altra arma ho tutte le girls che volevo tutte raga tutte danjin taoshi sanhua un giorno prima così domani lasci uno e anche un'altra copia di baigi le ho trovate tutte le mie signorine e non ho trovato michael jackson raga non ho trovato né michael jackson né alto io né michael jackson né alto qua forse un'altra multi quando la farmo in questi giorni la tiro vi dico che farmando in questi giorni forse un'altra multina qui la tiro per arrivare a metapiti mai dire mai never say never c'è lei che è così carina così bellina che se poi finisce che non la prendo mi stacco la testa quindi alla luce di questo con il mio ticchettino prendo anche anchor mi sento proprio una bimba mentre pulo le bimbe eccola tutta rosa finalmente i miei personaggi rosa finalmente finalmente un gioco che mi fa i personaggi rosa grazie grazie Wuthering Waves grazie